Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video tutorial su Arduino In questo video andremo a lavorare con la nostra Ethernet Shield per creare un sito web che si interfaccerà con il nostro Arduino Come potete vedere, sulla destra qui, il mio Arduino ha attualmente la Ethernet Shield collegata e all'Arduino è collegato un LED Questo LED verrà controllato tramite la nostra pagina web che creeremo usando la Ethernet Shield perché l'Ethernet Shield può funzionare anche come un server web quindi noi possiamo proprio creare un sito che viene gestito dal nostro Arduino come se fosse un server l'Arduino e infatti diventa un server in quel caso e tramite questa pagina web sul sito noi potremo appunto accendere o spegnere il nostro LED Questa è una cosa ovviamente di base ma io voglio farvi capire intanto come fare a creare una pagina web con l'Arduino e seconda cosa come controllare più o meno degli input attraverso questa pagina quindi come poter leggere dei valori, come poter fare delle cose un po' particolari che ci permettono di interagire con i nostri componenti di Arduino Questo verrà nella prima parte del video nella seconda vi farò vedere anche come rendere questo sito web pubblico ovvero raggiungibile da qualsiasi parte di Internet quindi da qualsiasi computer connesso ad Internet infatti all'inizio andremo a lavorare soltanto in rete privata quindi potrò accedere al server web soltanto dalla mia rete ma voi che se avete all'esterno non potete accedere al mio server ma potete accedere a quello vostro quindi al vostro Arduino che sta facendo da server mentre nella seconda parte vedremo proprio come rendere il tutto pubblico quindi accessibile da qualsiasi parte della rete ovviamente andando a lavorare con Arduino che è un dispositivo che lavora a basso livello quindi con i bit nel senso vero e proprio della parola quindi andando a impostare ogni minima cosa dovrò fare degli accenni a cose abbastanza tecniche soprattutto perché stiamo parlando di web quindi di web, parliamo di Internet dobbiamo parlare un po' di come avviene anche la comunicazione su Internet quindi dovrò parlare un po' di indirizzi IP, un po' di porte cose che sono alla base di tutta la comunicazione su Internet ma non vi preoccupate, cercherò di farlo nel modo più semplice possibile va bene, quindi cominciamo subito andiamo a creare un nuovo sketch e scriviamo queste bellissime frasi ovvero queste istruzioni ovviamente sono tre import, tre librerie che ci serviranno che sono quella delle stringhe, che ci servirà dopo la spi.h che lavora insieme alla Ethernet che è quella della Ethernet Shield queste due ci servono per andare su Internet con l'Arduino dopodiché abbiamo bisogno di creare quattro vettori di byte uno con il nostro MAC address uno con il nostro indirizzo IP uno con il gateway e uno con la subnet ora, queste quattro informazioni sono quelle diciamo che permettono alla rete di capire esattamente dove sta il nostro Arduino su Internet quindi, e soprattutto che ci permettono all'Arduino di comunicare poi con tutto il resto per il momento le scriviamo soltanto tra poco le andiamo a spiegare mentre l'ultima istruzione che dobbiamo aggiungere è questo Ethernet Server con 80 come parametro questo dice che stiamo rendendo il nostro Arduino un server un server che lavora con questo servizio il servizio 80 che è il servizio associato all'HTTP quindi alle pagine web in generale andiamo a creare ovviamente la void loop e prima ancora una void setup che sono quelle principali detto questo, io mi salvo già lo sketch quindi lo salvo, vabbè, in video tutorial chiamiamolo Arduino Web così benissimo e quindi adesso vi vado a spiegare cosa sono queste quattro cose partiamo dalla più semplice l'indirizzo IP l'indirizzo IP non è altro che un numeretto fatto da quattro cifre che vanno da 0 a 255 e questo indirizzo IP identifica il nostro Arduino esattamente su internet quindi ci sarà soltanto un dispositivo su internet che avrà un determinato indirizzo IP ora questa cosa dato che io sono in rete locale si riferisce principalmente alla mia rete locale dato che ogni rete locale ha diciamo più o meno gli stessi indirizzi di tutti gli altri poi ci sono vari meccanismi che permettono a quegli indirizzi locali di diventare indirizzi pubblici e in realtà quindi gli indirizzi pubblici sono univoci mentre quelli della rete locale non proprio perché ci possono essere diverse reti locali che usano lo stesso range di indirizzo di indirizzi locali ma quando poi si va all'esterno gli indirizzi diventano tutti univoci perché deve essere possibile identificare un dispositivo che si chiamano host quando sono connessi a una rete quindi un host dall'altro nel mio caso l'indirizzo del mio Arduino è 192.168.03 non è dato a caso ma l'ho deciso io per deciderlo ho dovuto intanto sapere qual è l'indirizzo della mia rete e poi tra quelli liberi ne ho dato uno per fare queste due cose abbiamo bisogno di sapere la subnet la subnet mask questa subnet mask ci dice di un indirizzo IP qual è la parte di rete e qual è la parte invece destinata agli host quindi a tutti i dispositivi che possono andare su quella che sono su quella rete che sono connessi su quella rete in questo caso dove vedete il 255 vuol dire che è tutta parte rete mentre la parte a zero è la parte degli host quindi di questo indirizzo qua le prime tre cifre identificano scusatemi i primi tre numeri non le prime tre cifre i primi tre numeri identificano la rete dato che i primi tre byte della subnet mask sono a 255 ricordatevi che ognuno di questi è un byte quindi sono 8, 16, 24, 32 bit in tutto ok quindi stavo dicendo della subnet mask i primi tre byte sono tutti a 255 e questo significa che dell'indirizzo IP i primi tre byte rappresentano la rete mentre l'ultimo byte rappresenta il mio host quindi in questo caso l'arduino sulla rete per sapere su che rete siete vi basta andare nel prompt dei comandi quindi premete il tasto di windows più r e scrivete cmd fate ok dopodichè lanciate questa istruzione che si chiama ipconfig e premete invio appariranno tutta una serie di scritte quella che interessa a voi è quella riguardante la vostra scheda di rete che di solito è la scheda ethernet appunto dove c'è scritto indirizzo IPv4 e questo è l'indirizzo del computer che state usando la subnet mask che è appunto la subnet della rete che state usando e il gateway predefinito il gateway lo mettete pari pari a quello che trovate qua ed è praticamente l'indirizzo del vostro modem del vostro router mentre la subnet mask la ricopiate anche l'indirizzo IP ovviamente va cambiato quindi non potete metterlo uno uguale a quello del vostro computer ne dovete mettere un altro tenete conto che se avete una maschera come quella che ho io quindi 255 255 255 0 la cosa migliore da fare sarebbe mettere un numero tra 1 e 254 ovviamente non potete mettere nemmeno quello che c'è nel gateway potete mettere uno degli altri indirizzi che sono liberi quindi vedete prima quali indirizzi sono liberi nella vostra rete quindi controllate quali indirizzi IP hanno i vostri vari computer connessi sceglietene sceglietene uno libero quindi e lo mettete qui scusatemi al campo IP io per esempio ho il 103 che è quello del computer dal quale sto registrando e poi ho il modem sul numero 1 e poi ho l'arduino ho messo l'arduino sul numero 3 così perché il numero 3 non era occupato da niente quindi ci ho messo l'arduino tranquillamente quindi sceglietevi un indirizzo libero all'interno della vostra rete e mettetelo qui ovviamente non potete ricordatevi cambiare le prime 3 parti i primi 3 byte perché essendo la subnet mask questa qui ovviamente le prime 3 parti identificano la rete quindi se la cambiate state mettendo l'arduino su un'altra rete e quindi l'arduino sarà incapace di comunicare con tutti i computer della vostra rete locale quindi nel mio caso la mia rete è 192 168 0 l'ultima parte identifica un particolare dispositivo della mia rete quindi 192 168 0 3 è il computer da quale sto registrando 192 168 0 103 scusatemi 103 è quello da quale sto registrando il 3 è l'arduino mentre l'1 è il mio modem quindi ricapitolando subnet mask uguale identica gateway predefinito uguale identico l'indirizzo IP glielo date voi purché sia dalla vostra stessa rete il MAC address non è altro che una sorta diciamo di indirizzo IP solo che è legato alla scheda di rete ed è in esa decimale se volete potete tranquillamente copiare quello che ho io perché tanto per l'arduino un MAC address vale l'altro però sappiate che identifica anche lui l'arduino sulla vostra rete ok quindi scrivete esattamente quello che ho messo io tanto funzionerà tranquillamente l'importante è che queste tre cose l'IP il gateway la subnet siano coerenti tra di loro questo è importantissimo se sbagliate di impostare queste tre cose fallite tutto quanto quindi il vostro arduino non sarà capace di comunicare né con i computer sulla vostra rete né poi all'esterno per quanto riguarda questo ethernet server server 80 ripeto stiamo dicendo al nostro arduino di aprire una porta ovvero la porta 80 tenete conto che le porte non sono altro che numeri associati a dei particolari servizi c'è una porta per il trasferimento dei file una porta per il servizio delle pagine web una porta per tante altre cose ce ne sono 65.000 e passa e quella 80 è quella specifica del servizio html scusatemi del servizio http scusate l'errore quindi quello delle pagine web in questo caso quindi stiamo dicendo che il nostro arduino sarà in grado di fornire delle pagine web benissimo dopo questa complicata spiegazione passiamo subito alla parte pratica quindi mi raccomando a configurare correttamente queste cose dopodichè passiamo e facciamo una bella ethernet punto begin passando come parametri questi quattro dati nell'ordine in cui li vedete qua quindi mac ip gateway e subnet quindi da questo momento in poi il nostro arduino sarà capace di comunicare su internet facciamo anche una serial punto begin così potremo inviare dei dati sul monitor seriale per testare alcune cose e dato che avremo bisogno di accendere e spegnere un led intanto ci dichiariamo un bel led quindi facciamo un int pin led uguale 9 in questo caso perché l'ho connesso sul 9 ah lo sketch è semplicissimo c'è semplicemente un led connesso sul pin 9 quindi non c'è nient'altro è inutile che ve lo faccio perché ormai penso che dopo tutti questi tutorial sappiate collegare un led all'arduino con un resistore davanti quindi non c'è bisogno che vi metta lo sketch c'è soltanto un pin un led sul mio pin 9 voi potete scegliere un altro led l'importante è che funzioni tutto quanto quindi dobbiamo settare il pin 9 come output quindi scriviamo una pin mode pin led output ok ho scritto benissimo a questo punto praticamente il nostro arduino è connesso alla rete con il led abilitato il pin del led abilitato quindi pronto per mandare dei segnali in uscita ed ha cominciato una comunicazione con la nostra console seriale io direi che per il momento come prima parte ci possiamo fermare qui mentre nella prossima parte vediamo come cominciare intanto a creare la pagina web quindi prima ancora scusatemi come stabilire una connessione quindi come far connettere qualcosa al nostro server arduino seconda cosa come creare la pagina web dopodichè dovremo vedere anche come leggere della richiesta che ci viene fatta dal computer che si connetta all'arduino e come rispondere a questa richiesta inoltre dovremo vedere poi come programmare la pagina affinché permetta di accendere o spegnere la lampadina quindi diciamo che abbiamo ancora parecchie cose da fare penso che il tutto prenderà almeno altri due o forse anche tre video va bene ragazzi io direi che per il momento ci possiamo fermare qui e continuiamo nel prossimo video a dopo grazie a tutti